Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo all'errore all'avvio di Hans Human quindi in questo caso il gioco è uscito il 9 di luglio ma c'è chi ha avuto problemi ad avviare il gioco oppure quando clicca su gioco il gioco non si avvia quindi in questo caso c'è qualcosa che non vale la sua cartella può essere che l'antivirus blocchi così per sbaglio la cartella del gioco cancellando un file e così facendo il gioco non funziona quindi in questo caso può andare sulla rotella fare su proprietà file installati verifica integrità dei file del gioco quindi farà la verifica farà una quindi convalida così i file mancanti e li scarica quindi chiudiamo un attimo andiamo su sfoglia i file locali ed ecco qua la cartella del gioco in questo caso scendiamo fino giù fino a trovare così Hans Human punto exigulo da 56 MB tasto destro sopra mostra attropazioni proprietà assicurati che gli attributi siano tolti quindi qua non deve tenere così la spunta su solo lettura deve tenere così il quadratino bianco tutti e due compatibilità esegui questo programma come amministratore e fai applica modifica impostazioni per tutti gli utenti quindi per tutti gli utenti sul computer modifica impostazioni dpi elevati in questo caso bisogna fare anche un test all'avvio per esempio se tengo così la spunta qua e su esegui l'override del comportamento facciamo sistema avanzato se provo ad avviare il gioco e si avvia con queste spunte va bene se non si avvia tolgo così queste spunte e lo avvio senza nessun problema quindi prova a usare le spunte oppure senza rispetto quindi prova a fare un test all'avvio del gioco e fai ok una volta fatto chiudiamo un attimo qua e andiamo direttamente sul nostro Windows Defender ed eccolo qua sicurezza di Windows protezione da virus e minacce gestisci impostazioni aggiungi o rimuovi esclusioni e facciamo sì aggiungi così un'esclusione e aggiungiamo una cartella e vado a prendere così la cartella del gioco la cartella si trova nella libreria di Steam Steam Library questo qua Steam Maps Common scendo fino a giù fino a trovare Once Human ed eccolo qua quindi clicco così questa cartella e faccio selezione alla cartella e la inserisco per sempre nelle esclusioni di Windows quindi anche se vado a riavviare il sistema la cartella rimarrà qua dentro ed eccola qua Once Human se invece vuoi eliminarla rimuovi e rimuoverà così la cartella dalle esclusioni una volta fatto se non dovesse funzionare così l'avvia Once Human prova così a disconnetterti dal tuo account Steam e rifare l'accesso quindi fai il login oppure chiudi Steam e riavvia il sistema oppure andiamo direttamente su esegui per cento app data per cento scrivi qua sopra per cento app data per cento e fai ok assicuriamoci di trovare così la cartella Once Human ed eliminare le cache del gioco quindi vai su app data local e andiamo a vedere se c'è la cartella di Once Human in local non c'è quindi ritorno su roaming andiamo su roaming e andiamo a vedere se c'è la cartella Once Human qua se in questo caso c'è devi cancellare quella cartella qui in roaming non c'è e local qui non c'è la cartella di Once Human e chiudiamo qua ora ritorniamo sulla rotella proprietà file installati sfoglia i file locali tasto destra sopra e faccio esegui come amministratore e avvio il gioco direttamente nella sua cartella qui dice please start for quindi in questo caso ci dice solamente di avviarlo attraverso il launcher quindi non possiamo avviare il gioco nella sua cartella quindi faccio ferma ovviamente se adesso vado a cliccare avvia si avvia come amministratore perché l'abbiamo messo come amministratore nel suo file quindi nel suo programma .exe faccio gioca esegui come amministratore e faccio sì ed ecco il gioco che si è avviato prova anche ad aggiornare così i driver per la tua scheda video aggiorna così anche il tuo sistema operativo windows 10 o windows 11 esco così dal gioco assicurati di aggiornare anche windows update ed ecco qua ho un paio di aggiornamenti da installare sul mio computer oppure se hai nvidia c'è il programma nvidia app che ti ho lasciato in descrizione driver ed eccoli qua driver game ready driver studio e quindi se devi fare qualche aggiornamento ultimo aggiornamento rilasciato del 4 di giugno quindi in questo caso per altri problemi ancora sul gioco on sea human puoi commentare sotto al video cercherò di realizzare altre guide a riguardo su questo errore all'avvio di on sea human oppure altri errori futuro quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao